Demos Axa potrebbe essere la grande novità dell'estate tortorese 2014. Già da ora l'amministrazione comunale lavora per portare sul Tirreno Cosentino il festival itinerante scaturito da Demo La Chiappa Talenti, nota trasmissione di Radio 1 Rai, che permette la diffusione di musicisti emergenti senza contratto, altrimenti esclusi dai grandi circuiti dei media. Prima di Natale, una settimana, dieci giorni prima di Natale, sono stato alla Rai, a Saxa Rubra, perché grazie anche all'idea che ha avuto l'assessore Chiappetta siamo riusciti a contattare direttamente i responsabili di Saxa Rubra per il nuovo programma che stanno facendo, Demo Saxa. Ci hanno invitato, ci hanno fatto un'ottima proposta, è arrivata l'anno protocollata, è stata protocollata il 23 dicembre se non erro, ci stiamo lavorando sopra, è un progetto grandissimo, è un festival grandissimo, chiederemo sicuramente l'aiuto delle istituzioni regionali e provinciali, vediamo come risponderanno. Non nascondo che se riusciamo a fare questo, veramente sarà un grande evento, un grande ritorno per Tortore. Per il resto c'è da fare un bilancio sulle iniziative natalizie messe in campo dall'amministrazione comunale per queste feste. Siamo quasi agli sgoccioli, mancano solamente altre due o tre manifestazioni, abbiamo organizzato tutto insieme all'istituto comprensivo con la dirigente, con il parroco Don Antonio Pappalardo. Diciamo che le manifestazioni sono andate tutte bene, le presenze in qualche occasione lasciavano un po' a desiderare, vuoi per il freddo, vuoi per magari un po' di entusiasmi in meno che c'è stato quest'anno, comunque siamo andati avanti lo stesso, le abbiamo fatte in ugual modo come gli altri anni. Sicuramente quest'anno, come dicevamo nelle precedenti interviste, abbiamo puntato un pochettino in più sulla beneficenza. Oltre 14 famiglie hanno avuto delle agevolazioni per quanto riguarda questi contributi. L'ultima, almeno quella di ieri sera, è stata bellissima, la festa della Sacra Famiglia, è riuscita veramente benissimo, grazie alla collaborazione sicuramente del parroco Don Antonio. Le famiglie erano contentissime, abbiamo fatto una bella manifestazione. Adesso ce ne saranno altre due o tre, come dicevo prima, alla fine sarà quella della Befana in piazza Stella Maris. Speriamo bene, speriamo che almeno la Befana ci sia un po' di entusiasmo in più, perché è quello che è mancato un pochettino durante questi giorni.